Io mi sentivo sola, abbandonato, non sapevo cosa volevo, telefonavo ai servizi sociali, parlavo con la Bruni che un giorno mi ha dato tutta una nota di donne che venivano a fare le pulizie in casa. E io gli ho detto, ma io non ho bisogno di quelle, ma di cosa ho bisogno? Non lo so! Chi vuole cominciare oggi? Purtroppo ho avuto un problema che ho scoperto che mio fratello si è rivolto a, e volevo parlarne anche, a un'agenzia matrimoniale. E lo sapeva. Non penso a me, a me non interessa di quello che ho passato, perché l'ho fatto volentieri e lo continuerei a fare. Ma io lo riferei tutto. Ma io, ecco, lo riferei tutto per tutta la vita. Però è quello il problema, che io non ho dato all'altra figlia. Forse tu le hai dato, le hai dato senza corgi. Le hai dato senz'altro qualcosa a Maria Teresa. Perché una mamma non puoi sapere, tu non parla. Però vedi, non si può neanche incolparla la debolezza. Però probabilmente la vittima ha talmente lottato per diventare oggi quello che sono. Perché io oggi ho voglia di ridere, di vivere, di farmi ancora dei viaggi, eh? Mi sciupere di te. Non è vero. Quello che tu hai dentro lo dai per la tua vita, per tua figlia. Io non sono più di te, sono come te. Ma solo che probabilmente tu nel tuo piccolo qualcuno ti spinge avanti. Signore, mandami qualcuno che venga a trovare. Ma non è neanche tanto poi, tante volte sto anche bene da sola con la Elena. Perché potresti che venga uno a rompermi e dirmi i discorsi stupidi è meglio che stia da sola. No, ma scusa. Bella questa, grazie a te.